Abbiamo pensato ad ogni singola esigenza per essere sicuri di offrire tutto il meglio ai nostri ospiti. E... ci siamo riusciti! Villa Santa Maria, una struttura studiata per dare comfort e servizi medico-sanitari d'eccellenza. La costante presenza di infermieri e medici in sede è la prima garanzia per ospiti e parenti. Servizio lavanderia, trasporto infermi con ambulanza propria e personale qualificato. La struttura offre vasto giardino, stanze con bagno privato, campanello di emergenza, telefono in camera, wifi gratuito e aria condizionata. Casa di riposo Villa Santa Maria, in via Paolo Emilio Imbriani 1 a 4, per informazioni 081 19 24 78...